Musica Abbiamo attivato una programmazione che occupa tutti gli spazi possibili, compresi il sabato mattina e la domenica mattina. Faremo spettacoli alle 11 in modo tale da dare più disponibilità di programmazione e di spettacoli al pubblico. Oltre agli spettacoli serali, cinema anche al mattino per recuperare il tempo perduto e poter tornare in sala. Sono Iurari in programma un nuovo cinema azzurro di Ancona che ha riacceso lo schermo dal 26 aprile e riprogrammato le proiezioni per non sforare con il coprifuoco alle 22. Nuovo inizio ma vecchie regole con distanziamento in sala, termoscanner, tracciamento dei dati da mantenere per 14 giorni, area azione per riciclo aria interna e la possibilità di comprare i biglietti anche online. Una stagione che riparte dopo lo stop dello scorso ottobre in concomitanza con la notte degli Oscar, ma come nella ripresa dopo il primo lockdown, ora è il nodo da sciogliere l'accordo con i distributori. Il grosso nodo nella prima apertura era stato quello delle produzioni, di fatto si era fermato tutto, adesso la situazione qual è? Alcune distribuzioni stanno puntualizzando i listini per questo periodo, è tutto da capire, il 4 e il 5 maggio ci saranno le giornate professionali del cinema e lì forse capiremo bene che tipo di politica le distribuzioni metteranno in campo per questo periodo e per più che altro anche l'occasione importante speriamo che si possa realizzare delle arene estive. Per il cinema all'aperto si attende di capire quali saranno le disposizioni sul coprifuoco nei prossimi mesi, punto fondamentale per poter partire con la programmazione. Sono 60 date, quelle che solitamente organizziamo alla mole vanviteliana e prima sappiamo se il coprifuoco sarà in vigore o meno a giugno e prima potremo iniziare a prendere accordi e a definire i titoli della programmazione.